I nuovi lubrificanti Selenia hanno un additivo unico, l'automobilista, perché ognuno guida a modo suo e da questo dipende il rendimento dei motori. Così abbiamo studiato quattro lubrificanti per quattro modi diversi di guidare. Quando cambiate l'olio chiedete al meccanico in Selenia che più mi somiglia. Perché solo Selenia guida come voi.